Grazie a tutti. 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 Il costituzionalismo, il regime russoiano democratico è stato inaugurato, guarda caso, in Corsica. È stato inaugurato in Corsica fin dal XVIII secolo, regime che ha portato alla distruzione della scienza istimica. Ribadisco, in tutta la Peninia, in modo drammatico, nelle due Sicilie, in Sardegna e forse anche in Corsica, non ho studiato bene la Corsica. Pensate al Medioevo. Nel Medioevo i re di Inghilterra erano spesso duchi di Aquitania, duchi di Normandia, diciamo, di Bretagna e così via. E erano come re di Inghilterra erano pari ai re di Francia. Come invece duchi erano subalterni a re di Francia, dovevano inchinarsi dinanzi al suo trono, che meraviglia. Però quello che è importante è che nel Medioevo, tra l'arcipelago transmanichense e il nord della penisola interpirenaica, oppure atlantico-mediterraneo, c'erano sempre rapporti territoriali. I re d'Inghilterra erano spesso duchi della Francia e dell'Occitania centro-occidentali. Invece la Provenza, tutta la parte in cui si sale, faceva direttamente parte dell'impero, del Sacro Romano Impero. Lo stesso termine Provenza, provincia, provincia dell'impero, riprende da Roma. Quindi vedete come scientifica la scienza istimica. Mentre, guardate, mentre gli stessi nobili erano nobili dell'Inghilterra e nobili della Francia e dell'Occitania, non esisteva alcuna connessione tra l'Inghilterra e la Germania, anglosassoni, tutti e due, anglosassoni. Anzi, i Windsor, gli attuali regnanti d'Inghilterra, vengono dall'Annover. La regina Vittoria veniva dall'Annover. I regnanti attuali, i Windsor, vengono dai Wattin, che sono una dinastia tedesca. Vengono dallo stato nazionale dell'Annover. Vedete, non c'è nessun rapporto. L'Annover, inglobato nel Reich germanico, non ha più nulla a che vedere con l'Inghilterra. Invece nel... perché? Perché l'Annover fa parte dell'Europa continentale. L'Europa continentale. L'Inghilterra fa parte dell'arcipelago transmanichense. E, ripeto, mentre per secoli e secoli vi è stata sempre connessione tra i regni educati di Inghilterra e di Francia Occitania, l'Aquitania qui sotto, il rapporto tra Inghilterra e Annover è stato un rapporto effimero. Nonostante i re d'Inghilterra fossero anche re dell'Annover. Quindi, come vedete, la scienza istimica è la verità. E la verità è come la luce. Si fa strada da sola. Si fa strada da sola. Bismarck rubò i due ducati della Danimarca con la truffa del suffragio universale. Perché non è il suffragio universale a stabilire la scienza istimica. La scienza istimica la stabilisce la natura delle cose. Appunto, scienza. Vedete la Danimarca? Questi due ducati, questi due ducati, erano i più ricchi della Danimarca, dell'arcipelago danese. Copenaghen sta qui, eh, vedete? Copenaghen, la capitale, non sta nella penisola. Sta in questa isola, di fronte alla capitale della Norvegia, a Stoccolma. Di fronte a Stoccolma. Qui sta Copenaghen. Vedete la scienza istimica. Va continuamente studiata, perché ovunque ci dimostra che dove vi sono penisole e isole vi è un tutt'uno, come il regno delle due Sicilie. Laddove invece vi è il continente e vi sono le penisole e le isole si esce fuori dai propri confini, quando il continente subentra nella penisola o nell'isola. E come dicevo, Bismarck rubò col suffragio universale e questi due educati alla Danimarca. Erano i più ricchi della Danimarca e col suffragio universale, poiché erano a maggioranza tedesca, di popolazione tedesca, vennero rubati. Però non è la popolazione, come in Crimea, come in Crimea, che determina la natura della nazione insulare, ma non è la popolazione sovraggiunta, questo voglio dire, non è assolutamente quella, perché potrebbe essere una tattica, è la penisola in sé che fa la nazione, perché a lungo andare i danesi del sud della Danimarca non saranno mai come i tedeschi continentali, questo è il significato. Sono cose diverse e sicuramente non sono uguali ai bavaresi, ai renani e così via. Chiarito questo, è bene ribadire questo testo, perché vedo che vi è troppa nescenza, non si sa nulla sulla rivoluzione francese, c'è quella cosa di dire, pensare alla rivoluzione francese e pensare alla libertà, come se prima fosse stato tutto schiavismo, quando è il contrario, lo dice Pierre Veyne, basta leggere Boezio, Severino Boezio, la persona, chi è la persona? È quella, è quella natura individuale, sostanziale, inalienabile, Boezio, cioè il concetto di persona viene al mondo col cattolicissimo, prima non c'era. Questo libro qui che contrasta, che smonta totalmente questa libertà, questa copia di Pio Fedi, questa copia non originale quindi, questa statua è stata copiata a Pio Fedi, scultore in Firenze e noi possiamo vedere qui Luxferre, Lucifero, che illumina il mondo, gli illuminati di Baviera, cioè le borghesia spregiudicate di tutto il mondo. Sia ben chiaro, quella luce che voi vedete nella fiaccola, quella fiaccola che voi vedete in mano alla cosiddetta statua della libertà, è la statua della libertà da Dio, dalla Santissima Trinità, l'uomo maltusiano, l'uomo nuovo maltusiano del nuovo falso patologico regime diventa uguale a Dio, uguaglianza, fratellanza, fratello con le borghesia spregiudicate di tutto il mondo, è libero da Dio, libero dalle catene di Dio, infatti sotto del decaloco, dalle catene del decaloco, sotto la statua della libertà, vi sono le catene spezzate che sono i vincoli del decaloco. Vedere il decaloco come un qualcosa che ci incatene è satanico, perché il decaloco ci fa liberi, non ci incatena. Vi faccio un esempio, se il decaloco mi dice non uccidere, e io non uccido, sono libero. Se invece io passo con la macchina, vedo un pedone, e accelero, e lo ammazzo, io ho violato il decaloco, la libertà del decaloco, e mi sono dato alle catene di Satana, perché in quel momento là mi sono lasciato incatenare da Satana, perché ho ucciso un fratello sulla strada, e quindi ho perso la libertà. L'incatenamento è da parte di Satana, non è da parte del decaloco. Il decaloco mi dà la libertà, perché rispetto il prossimo. Invece Satana, il vitello d'oro, l'amore per i soldi, finalizzati a se stessi, mi incatena, continuamente incatena il mio cuore. E il mio cuore deve fare il male, non può non farlo. Quindi, vedere le catene spezzate sotto la statua della libertà, sono i re cattolici. Sono i re cattolici, è il veto reale, dei re cattolici, che diceva, questo non si può fare. Le borghese spregiudicate, questo non possono farlo. Ecco perché, le borghese spregiudicate, di tutto il mondo, gli arrivisti, gli accaparratori, gli usurai, l'alta finanza cesarista, appoggia all'interno delle nazioni, la parte peggiore delle nazioni, che veramente dovrebbe essere privata dei diritti civili. Invece il contrario oggi. Oggi chi vengono privati dei diritti civili sono i migliori della società, ridotti alla morte sociale. E i peggiori vanno sopra. Vedete gli scandali pubblici a catena, non finiscono mai quelli che si scoprono. Perché il sistema liberal che li genera, che li produce, perché è stato tolto il veto reale delle dinastie. Sono stati decapitati i re cattolici, sono stati soppiantati in transmanica con il colpo di stato di Guglielmo d'Orange. Guglielmo d'Orange cosa fa in transmanica? Aiutato dai soldi degli orangisti della sua patria e dei marrani di Spagna rifugiati in Olanda cosa fa? Occupa l'Inghilterra e che soppianta il suocero Giacomo II, re cattolico, suocero perché la figlia Anna ha sposato Guglielmo d'Orange, ma anche zio perché la mamma di Guglielmo d'Orange era la sorella era la sorella di Giacomo II e quindi il Parlamento britannico delibera il 7 gennaio 1688-1689 quegli anni là il 7 gennaio è la stessa data della ricordate il 7 gennaio è la stessa data del tricolore massonico a Reggio Emilia 7 gennaio 1797 ma è la stessa data in cui nascono i re cattolici rinascono i re cattolici perché gli imperatori d'Oriente hanno abbandonato l'Italia e i suoi destini il Papa è diventato il vero re protettore di Roma e dell'Italia per insulare e il Papa non ce la fa più con i longombardi usurpatori e deve chiedere aiuto a Pepino il breve in Francia e da chi va Stefano Zaccaria uno dei due il Papa il vicario di Cristo quando si incontra con Pepino per chiedere aiuto il 7 gennaio 754 754 pensate vedete è il il cesarista Giacobino che diciamo eleva il tricolore a Reggio Emilia è dato il 7 gennaio 1754 quindi come vediamo orangisti Giacobini la logica è la stessa come dice sostiene il Parlamento britannico con Guglielmo d'Orange che il re deve obbedire al Parlamento questa è la musica dovunque andiamo ma tutto nasce si consolida nello scismo anglicano senza lo scismo anglicano non capiremo nulla neppure il bolcevismo tutto si consolida lì perché appunto la scienza istimica a far forte l'isola che fa forte l'Inghilterra perché è all'interno di un arcipelago e cosa avviene? Avviene che già con Oliver Cranwell se vi ricordate che fa Oliver Cranwell la guerra civile inglese decapita decapita Carlo I Carlo I Stuart perché lo decapita il 30 gennaio del 1649 perché lo decapita perché Carlo I da re protestante continuava a sostenere il diritto divino dei principi che il Parlamento cioè le borghese spregiudicate questo significa significano Parlamento basta vedere quanto è spregiudicata la nostra classe politica che prende stipendi d'oro mentre la gente muore di fame e questa è la spregiudicatezza il cattivo esempio che si dà sostanziale istituzionale sistematico perché sono degli stipendi più alti del mondo proprio perché questa casta deve tenere imprigionato il Papa in Roma i conti tornano e allora cosa avviene? Avviene che Carlo I non ci sta Carlo I dice il Parlamento deve essere subordinato al veto reale al re e Oliver Conwell lo decapita lo uccide la stessa cosa verrà con Luigi XVI quando lui e Maria Antonietta verranno uccisi la Carmagnola quel famoso canto contro chi si scaglia contro il veto reale il veto reale il veto reale perché fino in tutto l'ansia regime da Costantino Teodosio in poi occorreva per una cosa per un progetto occorreva la firma del re e il re analizzava e vedeva se la cosa danneggiava o no le popolazioni se la cosa danneggiava le popolazioni il re diceva no non può passare no ecco perché è stata ghigliottinata Madame Beto fu ghigliottinato Carlo I in Inghilterra fu ghigliottinata a Maria Stoarda Maria Stoarda fu ghigliottinata l'8 febbraio 1587 8 febbraio 1587 ma Carlo I verrà ghigliottinato secondo il calendario gregoriano siamo nel 1649 il 9 febbraio 1649 8 e 9 febbraio vedete il trattato di Sutri quando Papa Pasquale II fu costretto a cedere tutto a Enrico V imperatore vedete sono cabalisti le date camminano in un modo è il caso di dirlo satanico il veto reale ma ditemi un poco chi ci tiene di più a una nazione una dinastia che va di padre in figlio e quindi considera la nazione come propria cosa nel proprio sangue non diciamo proprietà ma la considera nel proprio sangue oppure le repubbliche presidenziali in cui un presidente dopo 5-10 anni se ne va non risponde più della nazione né lui né la sua famiglia come non rispondono i parlamentari invece nella dinastia nella nobiltà i re e i nobili rispondevano continuamente delle nazioni dei ducati che gestivano perché li gestivano in dinastia di padre in figlio e chi in testa a voi è più tenuto secondo gli stessi propri interessi a conservare bene una cosa come nel nostro caso di uno stato nazionale o di un ducato e così via chi ce lo ha momentaneamente oppure chi ce l'ha per sempre io credo che chi ce l'ha momentaneamente non gli interessa se quella struttura dopo 20 anni crolla io penso anzi è tentato da dire adesso devo prendere il più possibile privatamente perché dopo questa struttura non mi apparterà più invece quando c'era la dinastia cui la cosa lo stato la repubblica apparteneva per sempre oppure la nobiltà cui il feudo apparteneva di padre in figlio si era tenuti a conservarlo nel miglior modo possibile perché era sempre legato alla famiglia perché era sempre legato in modo essenziale agli eredi di colui che al momento era in possesso del bene quindi tutte le menzogne giacobine questo libro i falsi miti della rivoluzione francese smaschera Jean Dumont Jean Dumont 1923 2003 se ben ricordo 2001 Jean Dumont ha scritto ha smascherato tutte le falsità della rivoluzione francese infatti sia ben chiaro per me anche dal punto di vista naturale non significa essere cattolico una dinastia tende a conservare di più la propria nazione nella floridità nel bene se sa che quella nazione si identifica per sempre con sé se invece chi la gestisce sa che un domani non avrà più a che fare né con sé né con la sua famiglia può anche prenderla come oggetto di preda come motivo di desertificazione come motivo di saccheggio ecco perché lo Stato liberale saccheggia continuamente perché lo Stato liberale non ha più una garanzia in sé lo Stato liberale è la legge della giungla il più forte va al potere poi lo abbandona lo lascia quando non c'è più da saccheggiare Jean-Tiumon i falsi miti della rivoluzione francese non ha un indice non posso leggervi l'indice però non ce l'ha ma vi posso leggere alcune cose perché non celebriremo il 1789 questo libro è stato scritto nel 1989 e dice prima cosa perché rifiutiamo di celebrare le menzogne rivoluzionarie la menzogna della pretesa presa della Bastiglia da parte del popolo di Parigi quale popolo di Parigi nella Bastiglia c'erano sette criminali tra i quali il Marchese de Sade il Marchese de Sade che tra le tante dice chi non violenta la propria mamma la propria sorella non è degno di vivere il Marchese de Sade un incestuoso un prepotente il Marchese de Sade che dice indifferentemente bisogna usare sessualmente di tutti anche degli animali il Marchese de Sade era un depravato era un diabolico e stava giustamente nella Bastiglia perché i Borbone lo chiuderanno nella Bastiglia come immorale i rivoluzionari ve lo dovranno chiudere in altre prigioni come demente perché comunque faceva danno la menzogna della pretesa epopea dei volontari dell'anno secondo dovrei rivederla perché la menzogna della pretesa modernizzazione decisiva portata dalla rivoluzione quale modernizzazione la Francia nel 1789 era la più grande potenza d'Europa e del mondo industriale ma tutto dopo la rivoluzione viene gettata nella rivoluzione viene gettata come dicono gli storici Edmund Burke e così via ai piedi della Francia dalla rivoluzione frangese la Francia diventa una colonia britannica e statunitense la statua della libertà la menzogna di un preteso popolo al potere sotto la rivoluzione al potere non va la popolazione la popolazione viene distrutta perché distruggendo il veto reale che garantisce la libertà delle popolazioni le popolazioni finiscono in balia della borghesia spregiudicata della casta riformato rivoluzionale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti